Ho lavorato in Storia di Piera come sceneggiatrice insieme a Dacia Maraini dal libro Storia di Piera. Lavorare con Ferreri è stata una cosa incredibile perché lui un giorno tutto felice mi diceva io te sto a fare un monumento, te sto a fare un monumento. Un altro giorno lui diceva questa scena fa cagà e poi io ho sceneggiato sempre insieme a Dacia Maraini il futuro e donna e lì abbiamo immaginato un cuscino loro, Anna Ciculla e Ornella Muti non erano incinte erano finte, facevano questo gioco e si mettevano un cuscino per essere, per vedere che erano incinte e questo poi fu riportato al festival di Sanremo con Loredana Bertè. Lui era un disobbediente nato dunque è stato molto 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 divertente lavorare con lui perché è stato sempre sempre imprevedibile. Era un uomo che parlava continuamente a livello culturale comprensibile, un uomo che anche i suoi film erano tutti come dei grandi quadri. Era un uomo col quale si stava benissimo perché era molto molto spiritoso e tutta questa sua, diciamo, come si può dire, urlare, era in verità una sua copertura. Era secondo me poi dolce e Ferreri è da ricordare, non come morto ma come vivo perché è stato un uomo che ha previsto tutto quello che è successo e sarebbe stato male oggi ma non sarebbe stato in silenzio contro un'aridità, una solitudine. Lui che aveva bisogno comunque del rumore, della conversazione, della della lotta. Era un uomo unico. Sempre più siamo in un mondo di copie invece quello era l'originale. Grazie. Grazie.